In Abruzzo è già campagna elettorale per le regionali, anche se la data del voto è ancora lontana, vista anche la ferma volontà del presidente della Giunta D'Alfonso di sfruttare fino all'ultimo minuto l'opportunità di rivestire la doppia carica di senatore e governatore. Forza Italia continua ad essere critica nei confronti di questa scelta e con Fabrizio Di Stefano parla di un atteggiamento irresponsabile, nonostante sul tavolo ci siano grandi questioni da risolvere come la centrale SNAM a Sulmona o la restituzione delle tasse del sisma del 2009. Su quest'ultimo punto però D'Alfonso si è impegnato a scrivere una lettera al governo ancora preseduto per gli affari correnti da Gentiloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Io credo che sia da irresponsabile quello che sta facendo il presidente D'Alfonso. D'Alfonso sottopone e antepone a tutte queste problematiche la sua voglia di essere contestualmente senatore e presidente. Siamo all'assurdo, io credo che la dignità vorrebbe che chiudesse subito una partita, quale che sia, ma certamente non può in questo momento continuare in questa situazione dove l'unico problema è fare i concorsi e piazzare gli amici suoi ai vertici apicali della regione. Di Stefano infine lancia la sua candidatura in regione e pone il tema dell'apertura ai movimenti civici al suo partito Forza Italia. Questa è una scommessa a cui non basta la sola forza dei partiti del centro-destra ma che serve il coinvolgimento di quella grande forza civica che l'Abruzzo ha sempre rappresentato. Secondo me su questa partita noi ci cerchiamo gran parte del futuro di questa regione.